La nave sta per essere messa nella situazione di effettuare un rifornimento laterale, lo faremo con una nave rifornitrice olandese. La nave sta per essere messa nella situazione di effettuare un ritorno. Abbiamo trasmettito se sono pronti per la pizza, ready for pizza. Sinistra 12. 5 metri cubi di JP5 imbarcati.